L'immagine dei tifosi ungheresi del Ferenkvaros che occupano Piazza della Signoria dopo aver inondato di fumogeni verdi, alcol e urla razziste le vie del centro è la bruttissima fotografia che ha spinto il sindaco Nardella a scrivere alla prefettura chiedendo di spostare i punti di ritrovo dei tifosi ospiti in zone lontane dal centro Unesco e al tempo stesso di rafforzare i controlli in centro in occasione di partite così delicate dal punto di vista delle tifoserie. La sua indignazione era stata immediata e aveva raccolto la domanda che tutti si erano fatti come è stato possibile che 2300 tifosi siano arrivati fin lì una responsabilità quella di bloccarli che non è certo in capo al comune ma alle forze dell'ordine per questo la doppia proposta del sindaco è rivolta alla prefettura che ne discuterà in occasione del prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza resta il fatto che la richiesta arriva dopo l'ennesimo corteo era accaduta la stessa cosa con i polacchi dell'Eck Poznan e con gli svizzeri del Basilea la visita dei tifosi viola nel cuore medievale della capitale della Svizzera nord-occidentale seguì tra l'altro un percorso ben prestabilito segno che qualcosa in più si può fare è chiaro che il ritrovo in piazza indipendenza di simili tifoserie non è adatto né per la piazza diventata un bagno a cielo aperto né per la vicinanza con il centro e la possibilità di acquistare alcolici il 26 ottobre arriveranno a Firenze i serbi del Ciucarichi vedremo se sarà cambiato qualcosa